Tutto, è stato un corso bellissimo di crescita personale, abbiamo riso, pianto, ci siamo divertiti e abbiamo imparato tanto. È molto utile per superare i propri problemi, anche con facilità, Patrizia è bravissima ad insegnare un metodo molto semplice, a farci capire che possiamo tutti migliorarci e stare meglio nella nostra vita. E poi si trovano anche tante belle amicizie, c'è un aiuto reciproco, un dialogo che si può fare con tante persone che magari si conoscono appena e sembrano amici da tempo. Mi porterò via la voglia di migliorarmi e di metterci tanto impegno perché la vita è bella ed è serena quando noi siamo migliori. E mi porterò anche a casa il ricordo di tante amicizie che comunque continueranno ad esserci. Ma è stato un discorso sui rapporti personali, mi sono resa conto di avere tanti problemi da risolvere. E mi sarà di aiuto il metodo che mi è stato insegnato per aiutarmi a fare questo. Grazie mille Patrizia, sei stata meravigliosa.